cari amiche ed amici qui ancora una volta il vostro santa in cian in un nuovo radioprogramma mi piace vedere sempre così tanto entusiasmo attorno alle mie trasmissioni veramente molte grazie ecco questa intro per dirvi che questo radioprogramma lo salverò nel mio canale di youtube principale il canale senten cian perché il mio ultimo radioprogramma l'ho caricato nel mio secondo canale radio senten cian che avevo creato con il proposito di salvare i miei radioprogrammi di spreker e di sand cloud però è un canale di youtube poco frequentato già pochi iscritti e aumentano poco le visualizzazioni in anni io vedo che i miei iscritti del principale canale sono pigri ed indolenti e non vogliono andare ad ascoltare le tracce di spreker caricate nel secondo canale da quando le ho iniziato a salvare nel secondo canale di youtube invece si continuano ad ascoltare le tracce di spreker nel mio primo canale allora per non cambiare di abitudine a molti di voi ritorno a salvare le tracce di spreker i programmi radio nel primo canale ma adesso di cosa vogliamo parlare c'ho ancora 12 minuti e 38 secondi ci sono tante cose delle quali vorrei parlarvi perché sono passati quattro o cinque giorni da il mio ultimo live in youtube ultimamente faccio uno o due video ogni due settimane ne faccio sempre di meno perché ho tantissimo da leggere sono ritornato al mio vecchio interesse che la lettura a me mi appassionano molto i libri mi appassiona molto leggere e ho tre mobili di libri nella nella mia stanza e molti di più in casa succede che per fortuna purtroppo molti dei libri che mi sono rimasti negli anni li ho letti solo una volta e allora dopo 10 20 30 anni forse 40 un libro che ho letto 40 anni fa una sola volta in pratica se lo riprendo a leggere è come se fosse nuovo comprato adesso anche perché io cerco di mantenerli integri i miei libri quindi è come se lo riscoprissi per la prima volta anzi è come se lo scoprissi per la prima volta ho molto da rileggere moltissimo 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 e purtroppo in questi anni ho trascurato un po la lettura solo un libro al mese per fare video e programmi radio soprattutto video ma adesso devo ritornare a leggere e poi vorrei raccontarvi una cosa successa in questi giorni quindi passiamo beh niente come al solito fra miei tanti fans che commentano i miei video di youtube e anche che si comunicano con me in instagram vi ricordo che voi potete comunicarvi con me in instagram ma anche in youtube in youtube ho ricevuto il commentario di molte persone ultimamente qualcuna che mi segue sempre ma molte persone in lingua inglese addirittura thailandese quindi sto arrivando un po dovunque ma una persona si è comunicata con me in instagram chiedendomi di fare un video rispondendogli alle sue domande cosa che mi era successa anni fa e io ho fatto la ultima live rispondendogli alle sue 18 domande ma ultimamente si è messo a dire io non scenderò nei particolari perché non interessano a nessuno ma si è messo a dire che che vabbè mi voleva sponsorizzare mi voleva pubblicizzare mi voleva supportare se io gli avessi cercato del materiale da facebook e non si fa anche perché io stesso in facebook c'entro pochissime volte quasi non mi interessa facebook ce l'ho sta lì ma non mi è di una grande utilità mi scrivono ogni tanto io scrivo è un social network sto in contatto con molte persone che conosco ma il problema di facebook è che per esempio c'ho 1600 amici chiamiamoli così 1600 pensate voi e soltanto 23 o 26 si comunicano con me di quei 26 molti non parlano italiano quindi io metto i post dei miei video e molti non li guardano e solo 4 o 5 persone che parlano italiano mi seguono sempre poi col tempo c'è qualcuno che mi segue di più qualcuno che mi segue di meno negli anni quel profilo è del 2013 che è l'unico che mi è rimasto perché prima ne avevo un altro nel 2010 ma l'ho chiuso perché anche lì sono arrivato a conoscere 2000 persone di un massimo di 5000 che se ne possono avere ma in pratica non conosce veramente nessuno poi adesso facebook è molto più rigido prima di connettere qualcuno di aggiungerlo ai tuoi amici fra virgolette ti chiedono lo conosci, non lo conosci e metti il codice di verifica e bla 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 allora ho chiuso un profilo che avevo ho aperto quest'altro nel 2013 ma è come prima cioè non è che questa persona mi dice ah guarda in instagram nel mio profilo santinciano se tu fai questo e quell'altro che voglio che che mi passi delle foto di gente io ti faccio famoso io ti ti sponsorizzo tutti i tuoi vecchi video e mi sorprende perché questa persona ha un profilo che non è neanche a nome suo che in pratica c'ha 40 iscritti 30 iscritti c'ha 4 10 like a post poi ha pubblicato dei post con del materiale mio presso da youtube e allora gli hanno dato centinaia di like perché se voi andate a cercare in instagram santincian con l'hashtag noterete che i miei post hanno centinaia di like perché sto da anni in instagram in youtube cercate anche in internet nel web santincian guardate quanto materiale c'è invece lui c'ha 30 40 iscritti e mi promette che che mi farà famoso se io gli rispondo alle domande perché io gli ho risposto alle domande in un video ma così come ho fatto per molti Alessandro Arcangeli Amleta Bloom non è che mi devono promettere cose speciali perché io gli rispondo alle domande di cultura generale no? anche voi che mi ascoltate adesso potrete farmi delle domande e io vi risponderò in un prossimo video poi io saluterò ogni tanto adesso voglio vedere come va questo formato nel mio canale di trasferire la trasmissione podcast radiotrasmissione di Sprecher nel mio principale canale di youtube perché non sempre posso filmarmi poi editare il video o fare una live adesso è molto tardi e quindi preferisco fare un radioprogramma e poi trasferirlo in youtube però io ho sempre risposto alle domande del pubblico e magari a fine video saluto della gente quindi non ho capito perché ogni tanto salta qualcuno e mi dice guarda se tu mi rispondi a queste domande o se tu non so mi mandi per email delle delle foto e io ti farò famoso e veramente non ha non ha molto senso non ha senso non ha senso non so ditemi voi che ne dite mi hanno raccontato una barzelletta vediamo la reazione del pubblico si ho capito vi fa ridere anche a voi eh mi hanno fatto un mi hanno fatto un giochetto uno scherzo si deve essere stato qualche buon tempone che mi ha raccontato una pinzellacchera come direbbe il grande Antonio De Curtis in arte totò vabbè come dire c'ho due minuti e venti secondi molti mi hanno detto nel passato che la mia voce quando parlavo nella trasmissione radio era bella e quindi ringrazio queste persone forse per questo voglio radiotrasmettere di più e condividere nel mio canale di youtube principale perché adesso mi ascoltano in tanti ed io sono convinto che se questa trasmissione radiotrasmissione la salvassi nel mio secondo canale di youtube non l'ascolterebbe nessuno in youtube allora come dire ogni tanto ci rallegrano il giorno sparando cavolate come quella di rispondimi alle mie domande che ti farò famoso e vedi che questa persona mi dice un'altra persona ha già fatto lo stesso queste persone ti dicono non ho youtube perché le leggi sono rigide di youtube non ho facebook perché è cattivo scoprono chi sei non ho twitter non ho nulla e non hanno contatti non se li fila nessuno però a te ti farò famoso se in un video mi saluti mi rispondi alle domande e trovi dei dati personali di persone in facebook ma io non ho bisogno di questo adesso vi saluto perché sto a 30 secondi io ho bisogno di pubblico vero di pubblico che faccia feedback capito e vi lascio conto sul vostro feedback sul vostro seguimento condividete i miei video commentateli soprattutto che io commenterò e condividerò i vostri e dategli like e soprattutto commentateli così io so che avete visto il mio video passerò a commentare i vostri saluti del vostro sentenciano alla prossima alla prossima ciao